Ora eccoci, buongiorno ancora, signori cari. Vorrei mettere a fuoco due aspetti. Il primo riguarda Stefano Pioli, il secondo riguarda Schardec e Clara. Quello che riguarda Stefano Pioli riguarda direttamente Milan Cagliari. Milan Cagliari non è stata presentata come partita, non era una partita. Milan Cagliari era l'epilogo di una settimana in cui si è parlato solo del futuro allenatore. O di mercato, o di chissà cosa. Qualcuno ha riesumato addirittura Pablo Dana, che con tutto il rispetto Gerry Cardinale non conosce nemmeno. Quindi se non lo conosce non lo conosce, c'è poco da fare. Capisco le nostalgie di qualcuno, ma c'è poco da fare, se non lo conosce non lo conosce. Nessuno, anche nella conferenza stampa della vigilia, ha fatto specifiche domande tecniche a Stefano Pioli su Milan Cagliari. In questo clima, in questo ambiente, poteva anche starci, che anche l'allenatore, una volta ottenuta la qualificazione Champions, che per Massimiliano Allegri era Juventus, è stata la pietra filosofale della stagione, una volta ottenuta la qualificazione alla Supercoppa Italiana, con altro relativo introito economico per il club, dopo la parita, quella ce la siamo ottenuta dopo la parita con il Cagliari. Però, con la qualificazione alla Supercoppa Italiana ormai alle viste, potesse anche vivere serenamente Milan Cagliari, Stefano Pioli, come una parita di fine stagione, tranquilla, serena, eccetera, eccetera, eccetera. E invece Stefano Pioli ha pensato al rispetto per il pubblico che veniva allo stadio, al di là della posizione dei nostri ragazzi, della nostra curva, c'erano tutti gli altri tifosi che vengono allo stadio, che a fine partita, contenti per i gol del Milan, avevano fatto anche i cori. E bisognava rispettare quei tifosi. E Stefano Pioli ha confermato, nel momento in cui tutti lo danno ormai per bollito, superato, andato via, 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 la sua serietà, la sua umanità, la sua professionalità. Perché Stefano Pioli, per rispetto del suo incarico professionale, dei colori che portiamo, e dei milanisti che venivano allo stadio, ha fatto delle scelte di formazione per dare un segnale di serietà alla squadra sulle ultime parite della stagione. Io mi auguro, e sono convinto che accadrà, che anche se siamo ormai secondi definitivi, supercoppa definitivi, Champions definitivi, noi a Torino si interpreti la partita al massimo, perché se dovessimo battere sia il Torino, e sarà dura, che la Salernitana, potremmo chiudere a 80 punti. Dice, chi se ne frega, a me interessa. A me interessa. Quindi, nel bailamme, mediatico, social, di fine stagione, allenatore di qua, allenatore di là, almeno 50 allenatori accostati al Milan, Stefano Pioli sempre sul pezzo. Stefano Pioli tiene le redini della squadra, e dà importanza alla partita con il Cagliari, che non ci ha fatto fare i caroselli d'auto, però intanto ti porta in supercoppa, però intanto ti dà il secondo posto definitivo. che noi snobbiamo, ma che non va snobbato, perché, a parte l'Inter, tutti gli altri partecipanti al campionato, a parte l'Inter, altre 18 squadre avrebbero voluto essere al nostro posto. Quindi, questo mi piace di Stefano Pioli. Quando dice, all'esterno fate quello che volete, all'interno a Milano è un'altra cosa, l'ha ribadito nel momento di maggiore clamore, nel momento di maggiore ridondanza, anche riguardante lui stesso, anche riguardante il suo futuro, il futuro del Milan e quant'altro. Lui ha pensato a Milano-Cagliari, ha dato i segnali giusti alla squadra, e la squadra, anche nel primo tempo dove ne hanno abbrillato, ha interpretato la partita con grande serietà. E quindi, credo che la linearità di Stefano Pioli sia emersa, dal mio punto di vista, anche in questa occasione. Poi, la giornata ha avuto il suo picco, sia nel pareggio della Juventus con la Salernitana, quindi adesso lo sappiamo anche noi, che giocare con la Salernitana è dura, l'ultima giornata di campionato ce l'abbiamo, e dovremo fare di tutto per vincere, per salutare al meglio i nostri tifosi, che se lo meritano tutti, in tutti i settori dello stadio. E poi c'è stata Atalanta-Roma, Atalanta-Roma con questa prestazione sfavillante di Charles de Quetlare. E tutti quelli che un anno fa ci dicevano e ci sghignazzavano in faccia per il flop di Charles de Quetlare, oggi ti dicono, hai visto de Quetlare? Ah, io l'ho visto, tu lo devi aver visto. Tu che me lo rinfacciavi, tu che mi sghignazzavi in faccia, lo devi vedere. Però, al di là della risposta di pancia, che lascia il tempo che trova, il tema su Charles de Quetlare è molto chiaro. Io sono certamente noioso, spero solo di non essere ripetitivo, ma in questo caso mi tocca. Torno alla scorsa estate, perché noi non dobbiamo avere in testa solo i due gol di De Quetlare di ieri e la grande prestazione che Charles ha fatto anche col Marsiglia in Europa League. Noi dobbiamo ricordarci di quello che si diceva la scorsa estate. A Milan grave errore, in pochi dicevano perché Charles è di qualità, in molti dicevano perché De Quetlare va a rinforzare una diretta concorrente come l'Atalanta. Anche se l'Atalanta ci ha eliminato dalla Coppa Italia in un momento di emergenza infortuni e con un po' di episodi, in ogni caso qualificazione meritata da parte dei bergamaschi, il Milan in campionato senza De Quetlare ha fatto meglio dell'Atalanta con De Quetlare e il campionato sono 38 giornate, fino a questo momento 36, quindi tante partite, quindi viene fuori un verdetto consistente e lungo. Anche se poi l'Atalanta ha fatto quell'impresa con Liverpool che non so se noi saremmo riusciti a fare. E di questo va assolutamente dato atto a Gasperini, ma il tema non è Gasperini. Io ricordo che la scorsa estate si diceva diamo all'Atalanta una diretta concorrente e quant'altro, ma la scorsa estate bisogna avere memoria, non soltanto dei gol di ieri come dicevo, bisogna avere memoria di quello che era De Quetlare un anno fa. era, purtroppo, sia il Milan che lui su quell'operazione erano su un binario morto. Charles aveva vissuto da noi uno sprofondo tecnico, dei gol sbagliati in maniera clamorosa, delle assenze totali dalle partite, da cui, diciamo, in un modo normale italiano di gestire le cose, Charles avrebbe iniziato così tanto per una serie di prestiti anno per anno, come accadde, ad esempio, tanti anni fa a Matri, fino a che poi non si sarebbe arrivati per consulzione alla fine del contratto, per cui tu ti ritrovavi semplicemente con il giocatore fuori dalla tua rosa di anno in anno, ma con una minus valenza e non saresti mai rientrato dal tuo investimento economico che avevi fatto con il bruscio. Invece tu cosa hai detto? Chi lo può risollevare? Come aveva fatto con Niang, come aveva fatto con Suso, come aveva fatto con Borriello, chi lo può risollevare? Gasperini. E allora va all'Atalanta. Il presidente Percassi dice lo riscatteremo, bisogna vedere a quanto. Quelle sono cose che riguardano i club, i vertici societari, il Milan e l'Atalanta, io da umile tifoso mi permetto di dire, insomma. l'Atalanta fa sempre grandi cessioni e qui fa un grande acquisto. Poi per carità, ormai Charles de Ketlare è un giocatore rilanciato. Noi il tema è, ragazzi, che non abbiamo nessuna garanzia che quello che di importantissimo ha fatto Charles de Ketlare quest'anno a Bergamo lo avrebbe fatto anche nel Milan, o lo rifarebbe eventualmente nel Milan. Perché sono ambienti tecnici, organizzazioni, meccanismi diversi. Gasperini è un allenatore che fa cose che mediamente non fanno gli altri club. Non parlo di meglio o peggio, parlo di diversità. E quindi noi ci ritroviamo un anno dopo, dal binario morto al giocatore rilanciato. L'Atalanta lo riscatterà trovando l'intesa col Milan. Il Milan avrà evitato una minusvalenza e potrà investire i proventi sul mercato. L'Atalanta non lo riscatterà, torna al Milan un giocatore che ha molto mercato. Perché io sfido qualunque tifoso milanista a riprovarci. perché è un giocatore di grande talento e di grande qualità, Charles. Ma troppo di cashmere per una piazza che ha le pressioni e la cappa d'energia della nostra. Questo almeno è il mio giudizio, questo almeno è il mio pensiero. Ciao a tutti e a domani.